Salve a tutti ragazzi e bentornati su Ciaccazione! Questa notte è uscito il trailer di Joker Foliad ma prima di parlarvi e di entrare nel dettaglio di ciò che abbiamo visto e che potete trovare sul nostro canale Facebook ed Instagram e guardarlo anche sul canale della Warner Bros andiamo con la nostra sigla! Innanzitutto la reaction non la faccio perché ho visto il trailer questa mattina alle 4 e poi sono scappato al lavoro Per prima cosa ritroviamo le atmosfere del primo film come sapevamo già il film detto anche da Dot Phillips è un musical come ha poi ufficializzato anche Joaquin Phoenix tutti avevano paura di come sarebbe stata trattata la musica nel film e magari evitare troppe canzoni stile Disney ed ecco a quanto pare le canzoni comunque la musica che ascoltiamo in questo trailer poi ovviamente bisogna vedere il film fa da contorno all'evoluzione dei due personaggi perché capiamo come anche nel primo capitolo di Joker questo film giri moltissimo intorno alla musica e di ciò che immaginano i due protagonisti innanzitutto molto probabilmente il personaggio interpretato da Lady Gaga ovvero Harley Quinn sarà reinterpretato almeno in parte come è stato poi reinterpretato Arthur Fleck il Joker di Phoenix che a differenza di Joker visti in passato è diverso e particolare appunto questa nuova Harley Quinn a differenza di quella per esempio di Margot Robbie non credo sia la dottoressa Harley Quinzel come magari nei fumetti inizialmente nel trailer la vediamo sembrerebbe come un'estimatrice una fan di Joker anche se in alcuni anche se in alcuni scatti in alcuni clip durante il trailer sembrerebbe una paziente dell'Arkham Asylum non è ancora ben chiara questa cosa ma sicuramente ci verrà spiegata man mano magari con il prossimo trailer però sicuramente la caratterizzazione sarà diversa e reinterpretata da Todd Phillips che se continua a reinterpretare i personaggi come ha fatto con il Joker di Phoenix a me sta benissimo così infatti vediamo i due in diverse occasioni che ballano o da anche la Harley Quinn che incrocia Joker Arthur Fleck mentre viene portato via e molto probabilmente accusato di uno degli omicidi che abbiamo visto poi nel primo film e di aver scatenato quella rivolta sul finale del primo Joker quindi quando viene accompagnato vediamo che lo incrocia e gli fa il cenno della pistola a riferimento probabilmente a qualcosa nel precedente capitolo ascoltiamo la voce dello psicologo che dice che la musica è un nuovo modo per essere se stessi e quindi quando gli chiede cosa è cambiato Arthur Fleck dice che non è più solo altra opzione potrebbe essere quella dell'Harley Quinn che è anche lei una paziente dell'Arkham Asylum quella recedente appunto magari è lei che è una estimatrice del Joker anche perché sul finale del trailer la vediamo che lo va a trovare in carcere quindi non si capisce bene fino a questo momento cosa vogliano fare con il personaggio interpretato Lady Gaga una Lady Gaga che mi è sembrata veramente in parte soprattutto in alcuni momenti del trailer mi è sembrata l'Harley Quinn ideale sono sincero perché quando la vediamo ballare sul palco in quella scena in cui c'è Arthur Fleck che suona è veramente veramente grandiosa soprattutto la loro interpretazione quando c'è sullo sfondo l'Arkham Hotel con la scritta Arkham Hotel che è sembrato un riferimento ai musical del passato o anche molto a La La Land ma sappiamo quanto Todd Phillips si ispiri ai diversi film ai diversi capitoli dei film cult e qui quando ballano improvvisamente cambia lo scenario di sfondo e da uno sfondo con i neon scritto Hotel Arkham cambia e c'è la devastazione intorno a loro con le fiamme e la gente che fugge questo probabilmente sta a significare che i momenti come si era supposto sin dall'inizio i momenti che vedono i due che badano e che cantano e che comunque si interfacciano tra loro sono o immaginari o realmente o accadono realmente e quindi immaginano questo mondo idilliaco nel quale sono al centro dell'attenzione mentre in realtà sono in mezzo alla devastazione in questo trailer sono le scene alternate alternate a loro che ballano di questo show questi momenti di spettacolo in cui si canta, si balla alternate a esplosioni scene di violenza a quello che sembra un pub nel quale Arthur Fleck picchia una persona con uno sgabbello è molto intenso la colonna sonora è incredibile e già mi rimane nella testa come Smile nel primo film e soprattutto la fotografia è intensissima e molto molto dark quindi possiamo dire tranquillamente che è un musical dark vedremo quante canzoni ci saranno ma più che musical cantato forse potremmo trovare 4-5 canzoni è la musica che fa da padrone nel film che accompagna completamente e proprio da protagonista le gesta dei due molto probabilmente sarà questo l'intento di Doc Phillips accompagnare Lady Gaga e Joaquin Phoenix mentre con la musica mentre compiono cose azioni e uccidono gente probabilmente vediamo sul finale del trailer quando Harley Quinn fa il sorriso col sangue fa come fatto nel precedente film proprio da Arthur Fleck ragazzi io veramente sono in un hype clamoroso perché questo è uno dei film che attendo con maggior ansia per il 2024 insieme a Furiosa e a Deadpool ovviamente per il momento è questo quello che sappiamo non è ben chiara l'intenzione del regista su come voglia trattare Harley Quinn ma è molto probabile che si discosti dal personaggio come detto della dottoressa che viene poi in qualche modo influenzata dal Joker e non riesce a psicanalizzarlo e molto probabilmente sarà questo il flucro del film un momento particolare del trailer è quando si vedono i due in questa scenografia particolare un po' cartunesca un po' fiabbesca con Joker ovviamente truccato a dovere che aspetta Harley Quinn all'altare sembrerebbe una scena del matrimonio tra i due che in televisione e a livello cinematografico non abbiamo mai visto è stata trattata solo in una run a fumetti e quindi è particolare il modo in cui viene trattato il rapporto tra i due perché è stato sempre sottolineato quanto Joker e Harley Quinn abbiano un rapporto tossico più che un rapporto di vero amore quindi voglio proprio vedere come hanno messo in scena questa relazione particolare la violenza non manca sono molto contento perché come al solito Phoenix è in super parte quando abbiamo visto il teaserino ieri quando è stato lanciato l'annuncio del trailer quella scena sotto la pioggia in cui ride da brividi e da spezzare il fiato ragazzi un trailer mozzafiato che mi ha emozionato tantissimo e non vedo l'ora di che arrivi il 2 ottobre per andare al cinema spero di riuscire ad andare a Venezia perché molto probabilmente verrà presentato in anteprima mondiale al festival del cinema di Venezia io non vedo l'ora fatemi sapere voi cosa ne pensate spero di aver detto tutto e di non essermi dimenticato niente perché è un trailer che aspettavo tantissimo e che comunque ho tanta voglia di rivedere e rivedere grazie a tutti da Valerio Perrone e da Ciaccazioni vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e di lasciare un commento o una reaction o quello che volete per farmi sapere cosa ne pensate di questo trailer e di Joker Foliad grazie mille grazie a tutti